Consegniamo nei tempi stabiliti la nuova grande rotatoria di Cimino che come già potete vedere da questa mattina e già dai giorni precedenti sta consentendo un traffico davvero più fluido. Siamo molto contenti che le nostre direzioni comunali, in particolar modo questa la polizia locale, riescano a investire risorse sulla progettazione che stiamo dando in tutti gli ambiti e a portare a termine i cantieri con questa speditezza. Come sapete c'è un'altra rotatoria più avanti che abbiamo avviato da qualche settimana, abbiamo anche concluso proprio in occasione della settimana sociale dei Cattolici che stiamo ospitando con grande successo in città l'ultimo tratto di Valle Mania Grecia. Insomma anche questo nei tempi la città cresce, la città migliora, presto avremo interventi interessanti sui parcheggi che vengono richiesti a gran voce da tanti cittadini. Siamo ripeto molto contenti perché i nostri uffici stanno lavorando veramente alla grande, ormai da qualche tempo a questa parte la città è tornata una città seria, autorevole quando progetta, quando investe. I miei ringraziamenti ovviamente oltre che agli uffici comunali, agli assessori, prima Cataldino, oggi Ciraci che hanno lavorato a questo progetto e insomma andiamo avanti su questa strada perché Taranto sta cambiando e lo sta facendo nella maniera più ordinata possibile.